L'Amenesquala Baschettarezzo espugna anche il Palasport di Avenza, casa dell'Audax Carrara. 81-67 risultato in favore della formazione di coach Serravalli. La squadra marmifera era reduce dal cambio di allenatore avvenuto solamente dieci giorni fa, quando coach Bellavista era sovventrato a Discepoli. Carrara poteva vantare nel proprio roster due tra i giovani più interessanti di tutto il campionato, il classe 99 Viola e il classe 2002 Menconi. Entrambi viaggiavano ad oltre dieci punti di media realizzati per partite e nella gara di andata erano stati i protagonisti del blitz dell'Audax al Palasport Estra. Raggiunto ormai la sicurezza matematica dei play-off, per l'Amenesquala l'obiettivo era quello, in queste quattro partite finali, di cercare di ottenere il miglior piazzamento possibile in vista della post-season. La squadra di Serravalli ha cancellato sicuramente la scialba prestazione dell'andata, allungando la sua striscia positiva. All'intervallo era Carrara in vantaggio 42 a 39, poi il tutto si è ribaltato, vittoria finale dell'Amen per 81 a 67. In classifica l'Amen Scuola Basket Arezzo si trova al terzo posto insieme a Colle Basket a quota 30, a due punti dalla Folgore Fucecchio che si trova in seconda posizione. La classifica è guidata dalla Pallacanestro Prato.